Incredibile rivelazione su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fatta proprio da quest'ultimo, nel corso della sua presenza alla vita in diretta. Si è presentato nel giorno di Pasquetta in diretta su Rai 1, con al suo fianco nonno Rocco, diventato virale. Ed ecco che è uscita fuori una notizia inaspettata, che sta già facendo sognare ad occhi aperti i tantissimi fan della coppia. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme da alcuni anni e, nonostante alti e bassi, hanno sempre confermato di amarsi alla follia. Ed ecco che una possibile novità potrebbe essere imminente, visto che l'ex Geffino ha rotto il silenzio su un argomento molto importante. E, anche se si stava molto scherzando in studio, in molti pensano che dietro si cieli invece una verità. Parlando di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e suo nonno si sono concentrati sulla ragazza. Soffermandosi sulla sua fidanzata, l'ex velino distriscia la notizia nel giorno del trentunesimo compleanno di lei, ha fatto una dichiarazione bomba. Le ho regalato un anellino, mica ho detto la proposta. Perché lei in direct mi manda sempre foto di queste ragazze con anelli bellissimi, quindi ho preso spunto e ho adempiuto ad una richiesta. Poi Rossella Erra, anche lei ospite di Matano, ha esclamato, sarebbe anche ora, siamo in tanti ad aspettare questo matrimonio. Scherzosamente Pierpaolo si è rivolto al nonno e ha detto, blocca il parroco con la chiesa e dici che andiamo a sposarci. Poi il conduttore ha aggiunto, riferendosi al signor Rocco, si devono sposare? E la risposta è stata, sì sì. Quindi, le nozze sarebbero più vicine che mai. Quindi, il prete in questione potrebbe essere il primo a conoscere la data del matrimonio. Ma ovviamente potrebbe essere stato solo uno sketch e quindi le nozze non sarebbero ancora programmate. Ma tutto è ovviamente possibile. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.